Coltivazione in concorso ai fini di spaccio è l'ipotesi di reato contestata dagli agenti del commissariato di polizia nei confronti di Alfonso Candiano, classe 1955, e del suo aiutante rumeno, il pastore Lucian Gasca, classe 1978. Gli agenti coordinati dal vicequestore Giovanni Minardi ieri pomeriggio sono intervenuti in un vigneto di Contrada Ribittelli, periferia della città, dove in un terreno di proprietà di Candiano, adibito apparentemente a vigneto, hanno rinvenuto 139 piantine che all'esame narcotico sono risultate essere di marijuana. La droga era occultata tra la vegetazione e le sterpaie. Le piantine erano di altezza compresa tra un metro e mezzo e due metri. A seguito di un'attività investigativa condotta da questo ufficio, dalla squadra di polizia giudiziaria di questo commissariato, siamo arrivati dopo un breve periodo di tempo a individuare questo sito. All'interno di un vigneto in disuso, opportunamente gelato, sotto questo vigneto a tettoia, vi erano queste numerose piante di marijuana. Siamo riusciti a individuare il proprietario del fondo che abbiamo tratto in arresto unitamente al suo collaboratore che era di origine rumena. Sono stati posti, così come è disposto all'autorità giudiziaria, gli arresti domiciliari entrambi. I poliziotti hanno provveduto al recupero e al trasporto in commissariato dell'incente quantitativo di droga che è risultata pesare 180 kg. Le piantine si presentavano quasi tutte in stato di avanzata fioritura e pronte per essere raccolte. Da una prima stima al dettaglio avrebbero potuto fruttare circa 40.000 euro. Candiano e Gasca sono stati accompagnati in commissariato e posti successivamente in stato di arresti domiciliari. Dell'operazione è stata informata la dottoressa Sardoni, PM di turno, al Tribunale di Agrigento.